Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questo nuovo video vi porto le anticipazioni di Terra Amara che andranno in onda dal 5 all'11 giugno. L'episodio di lunedì prende il via con una scena coinvolgente in cui Ghaffur con l'aiuto di Cetin si vendica degli uomini che l'hanno brutalmente accoltellato durante una rissa. Tutto ciò accade a seguito del loro tentativo di difendere l'onore di Gulten e Zuleia. Nel frattempo Ilmaz convinto che Moshgan sia responsabile dell'arresto di quest'ultima prende una decisione drastica e chiede il divorzio. Nel corso della trama il focus si sposta al martedì 6 giugno quando Sanieie in cerca di aiuto si rivolge a Nassie. Quest'ultima viene coinvolta in una delicata situazione in cui il capo dei braccianti richiede il suo intervento per risolvere una questione legata al debito che Ghaffur ha con Atip. Sanie indignata dal comportamento del marito decide di agire e sottrae di nascosto le chiavi della cassaforte. Successivamente Nassie compie un gesto coraggioso. Consegna a Sanie la cambiale che il marito aveva negato di aver firmato e restituisce anche i soldi che Ghaffur aveva già dato ad Atip. Questa rivelazione avrà conseguenze inaspettate e scatenerà una serie di eventi imprevedibili. Intanto Atip venendo a conoscenza della verità si precipita da Sermin per sfogarsi ma la trova in compagnia di Fusun il che la costringe ad escocitare una scusa per allontanare l'uomo. Nella puntata di mercoledì 7 Sanie ha riottenuto la cambiale firmata e i soldi già consegnati ad Atip. La coppia ha preso la decisione di utilizzare quella somma come fondo per finanziare gli studi di Uzum. Nel frattempo Zuleya sta frottando soprusi da parte delle altre detenute all'interno della prigione. Ilmaz va a farle visita per darle conforto e le promette che farà il possibile per tirarla fuori da quella situazione. Poco dopo anche Unkar fa lo stesso chiedendo scusa a Zuleya per gli abusi subiti nel corso del tempo e promettendo di portarle a Znan. Nel frattempo Beyice sta consigliando a Mushgan di essere astuta e di negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Ilmaz. Mentre si avvicina il giovedì 8 Zuleya continua a soffrire a causa degli abusi inflitti dalle altre detenute e per la tristezza di essere separata dai suoi figli. Dopo una visita di Addan e Leila la giovane perde il controllo e minaccia con un pezzo di vetro una delle disprezzabili compagnie di cella. Demir uscito dal coma con un vigore rinnovato annunciando subito che non aveva alcuna intenzione di salvare Zuleya inoltre mentre si trovava in compagnia di una guardia venne a conoscenza del fatto che Ilmaz faceva visita alla moglie in modo regolare. Curioso di scoprire di più l'imprenditore si recò di nascosto in prigione per ascoltare le loro conversazioni. Nel frattempo Atip decise di cercare Sermin per godersi una serata tranquilla ma rimase completamente sorpreso quando la bionda gli piazza un ultimato o divorzia da Nassie o non si sarebbero mai più visti. Il 9 giugno Mushgan supplicò Ilmaz di dargli un'altra possibilità ma egli aveva già preso la sua decisione. Sarebbero divorziati e la cacciò di casa. La dottoressa non riuscendo in mano e si preparò a compiere un gesto estremo. Nel frattempo gli avvocati rivelarono che solo la testimonianza di Demir avrebbe potuto salvare Zuleya. Mentre si avvicinava al giorno dell'udienza sembrava che l'imprenditore avesse deciso di non presentarsi ma inaspettatamente arriva proprio all'ultimo momento. Il sabato 10 giugno tutti i tentativi disperati degli avvocati per salvare Zuleya si rivelarono inutili di fronte alle parole spietate pronunciate da Demir. Le sue esplosioni di rabbia e le parole di Ilmaz anticiparono la fine dell'udienza che si concluse con l'arresto di entrambi. Nel frattempo Adnan affranto per l'allontanamento della madre decise di uscire dalla sua ricerca. Nel frattempo Beice torna da Musgan e la trovò in fin di vita nella vasca da bagno. Grazie al suo tempestivo intervento e l'assistenza medica la dottoressa fu salvata. Nel frattempo Zuleya si rese conto che le sue parole avrebbero condannato Yaman a rimanere in prigione e decise di chiedere un favore a Sabatin. Poco dopo il primario venne a conoscenza del tentativo di suicidio di Musgan e Fekeli appena informato si precipitò all'ospedale per raggiungerla. Quando Musgan si risvegliò la sua disperazione dilaniò il cuore di tutti coloro presenti. In un secondo momento Beice si prese cura di Musgan e iniziò a inventare scuse per nascondere alla moglie ciò che era accaduto durante il processo di Zuleya. Nel frattempo Atip si presentò alla tenuta Yaman per recuperare la cambiale e per uccidere Gafur ma venne fermato da Saniye che rivelò tutta la verità ad Unkar, la madre adottiva di Uzum. Inoltre Unkar scoprì che Fadik si era innamorata di Rasit. Nel cuore della domenica 11 giugno mentre Zuleya, Demir e Ilmaz erano relegati dietro le spietate sbarre, Musgan all'oscuro degli eventi avvenuti durante il processo continuava a dimorare in ospedale. La sua permanenza suscitava profonda preoccupazione tra coloro che la circondavano sia per le sue condizioni fisiche che mentali dopo suo tragico tentativo di suicidio. Se non fosse stato per l'intervento tempestivo di Beice ora sarebbe stato solo un triste ricordo. La dottoressa mostrava ancora chiari segni di turbamento psichico che facevano temere per il suo benessere. Le anticipazioni di questa settimana terminano qui. Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!